La nostra vita è una commedia, ha dei tratti drammatici, dei tratti leggeri, dei tratti surreali, grotteschi, quindi quando noi viviamo ogni giorno, ogni giorno può essere una nuova commedia. Fare un festival della commedia è sia un punto di partenza ma anche un punto d'arrivo. Quello che succede in mezzo è una cosa bella e dovete venire qui a scoprirlo. Per il sesto giorno del Pulcinella Film Fest è un vero olore averti qui, Paolo Cagliazzo! Pulcinella è stato il maestro storico, questo eroe riverente, dei quali siamo un po' tutti figli, quindi noi siamo figli di Pulcinella, figli di questa commedia nel desiderio di voler regalare alle persone dei momenti di leggerizzo perché la vita è già molto pesante, quindi la commedia dovrebbe alleggerire. Un festival dedicato alla commedia è decisamente importante perché è un modo come un altro terapeutico per vincere le piccole battaglie di tutti i giorni. Grazie a tutti!